ma lì davanti si fa Bomberto Bomberto no ho fatto l'ultimo l'ultimo? quanto scarso stessa? mi prendo mi prendo non ti bagli anche tu ok ti volevo abbracciare oh vuole montare tu parli non siete capaci guarda 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 che fai vai vai e dai Naro 7 e via 5 4 si ma non partirà di primo 1 vai poi prima di andare loro e poi noi via 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo. Andiamo. Grazie a tutti.